buongiorno a tutti intanto un ringraziamento doveroso e grazie a tiguglio design distri per averci dato questa possibilità noi dello studio dudan design di poter raccontare qualcosa di noi e qualcosa del nostro mondo cominciare a rispondere alla prima domanda sugli inizi del insomma nel mondo del design se è stato un amore immediato o lento ma allora darei questo tipo di risposta sicuramente entrambe le cose perché il design è diventato fondamentalmente una necessità noi abbiamo sempre progettato ambienti progettato spazi il nostro studio uno studio di realtà di interior design che è diventato uno studio che si è avvicinato al design quasi come una qualcosa di un percorso naturale una crescita naturale per cui dalla dallo spazio grande siamo arrivati allo spazio piccolo scusate all'oggetto piccolo questo quindi è avvenuto immediatamente nel senso ovviamente quando se ne se si è avuta l'esigenza ma in un percorso sicuramente molto lento nel senso che abbiamo iniziato il nostro percorso e la nostra attività in un modo e poi piano piano disegnando spazi disegnando ambienti soprattutto nel mondo residenziale abbiamo avuto sempre di più la necessità di occuparci anche del disegno di un qualcosa di particolare quindi di un oggetto di un elemento che potesse essere un divano un tavolino una sedia e quindi questo è stato un po il percorso questa domanda è la forse la naturale conseguenza della prima nel senso che sicuramente è stato il nostro percorso è stata una naturale ascesa nel senso che devo ripetermi abbiamo iniziato su una scala differente e poi siamo arrivati a occuparci di una progettazione più puntuale del design questo quindi direi è venuto naturalmente negli anni man mano che abbiamo sempre di più alzato la sticella un po professionale e abbiamo cercato di occuparci di lavori studiati sempre di più nel dettaglio è venuto naturalmente diciamo questa necessità di occuparci di design da quanto riguarda poi il primo progetto importante è una cosa che è avvenuta qualche anno fa con un progetto particolare che è nato da una da una esigenza come come spesso succede le idee arrivano arrivano vengono e si fanno strada proprio quando c'è un'esigenza concreta il nostro progetto progetto pianeta che è un progetto di una postazione di smart working ma è una postazione complessa è una specie di come sempre la nostra formazione del diciamo dello studio di interior design e infatti nasce da uno studio di uno spazio che noi consideriamo uno spazio nello spazio quando c'era bisogno di avere un luogo fisico dove fare delle call piuttosto che delle riunioni in smart working da remoto noi abbiamo pensato di costruire un oggetto che in sé è un oggetto di design un oggetto anche luminoso particolare o poliedrico dentro cui poter entrare ed effettuare una telefonata di lavoro quindi questo è stato il punto di partenza poi ovviamente dentro questa diciamo cellula possono essere fatte tante attività si può ascoltare musica si può vedere un film si può giocare a un videogioco quindi questo è stato un po il progetto nostro per ora più importante poi ci sono altri infieri ma questo è quello che c'è anche appassionato di più perché è quello che rende evidente questo passaggio da dallo spazio quindi dal progettare uno spazio un interior design a un oggetto che ha una funzione ben precisa allora un approccio creativo e visionario mio modo superandi ma allora dipende molto dal cliente dipende molto dalla persona che io ho davanti diciamo che io cerco sempre di avere un approccio un po psicologico con il mio interlocutore cerco di capire chiaramente i suoi desiderata cerco di capire cosa piace cosa non piace e fondamentalmente visto che mi piace molto partire dal materiale dal tessuto particolare predilezione per i tessuti quindi il mondo moda quindi parto spesso dal tessuto per arrivare a una forma quindi questo è un po il mio questo ovviamente tutto quello che è il campo delle soft furnishing poi dove invece si studia faccio un esempio un tavolino per per studiare un tavolino spesso parto ovviamente dalla forma in quel caso perché il materiale è meno importante ma sempre cercando di interpretare e di capire la tipologia del cliente se è un manager se è un amante degli sport se è un amante della moda cioè c'è sempre una ricerca molto introspettiva e poi cerco sempre sempre di riportarla all'interno del del campo del della texture perché comunque sia da quello che per come la vedo io il design è fatto tanto di texture noi usiamo tanto le texture che siano di essenze linee piuttosto che di tessuti di stoffe particolari di tapezzerie abbinate anche spesso dei mobili quindi è un po un cercare di capire il cliente arrivando ad una forma che comunque è sempre rivestita quindi c'è sempre questo questo approccio un po da interior designer per cui il rivestimento è importante il tessuto il vestito la giacca questo un po sempre il nostro approccio anche nel mondo degli oggetti allora questa è una domanda che riassume un po quelle precedenti ed ha una chiusura di di come siamo fatti noi di come progettiamo di qual è il nostro approccio cioè il continuo rimando che c'è all'interno del nostro studio tra un il mondo del design e il mondo dell'interior design come ho detto prima noi spesso partiamo dallo studio di un ambiente più grande quindi partiamo dallo studio dell'involucro dallo studio dello spazio vestiamo questo spazio nel vestire questo spazio a volte studiamo anche quegli oggetti che creano l'interazione di noi esseri umani con lo spazio circostante quindi progetto che ho citato prima il progetto pianeta è sicuramente un esempio lampante ce ne sono poi altri ce ne sono altri in campo residenziale quando cerchiamo di 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 affinare la la progettualità all'interno appunto di ambienti particolari che possono essere la cucina che possono essere un salone una sala da pranzo con lo studio di oggetti che siano sempre degli elementi particolari e come dicevo prima che richiamino assolutamente un po anche lo stile il mood del cliente cioè deve esserci assolutamente questo un questo rimbalzo di situazioni progetto che stiamo lavorando adesso un progetto molto divertente in uno dei tanti campi che tocchiamo che oltre residenziale il nostro studio si occupa di progettazione nel mondo office quindi progettiamo uffici spazi di lavoro che sono cambiati tantissimo in questo periodo non voglio essere insomma ripetermi ma il progetto pianeta è proprio un cercare di trovare di dare una novità di uno spazio ufficio all'interno di spazi differenti che sono nati con funzioni differenti stiamo cercando di customizzare quindi un progetto che sia un po un mix è una via di mezzo tra il progetto pianeta che è più complesso più strutturato è un banale phone boot perché negli uffici che che si progettano ma in tutti gli uffici ormai c'è uno scostamento tra un layout che sia per funzioni che è quello che funziona che succede adesso da un layout vecchio stile fatto di attività e quindi di persone stanziali sulla propria scrivania io sono in questo momento a questa scrivania se devo fare un'attività differente se devo fare una colla mi sposto da questa scrivania e vado in un altro spazio dove l'ambiente circostante è creato in modo tale che io possa avere un buon livello qualitativo per la mia conferenza o la mia riunione ma questo non infici il lavoro degli altri questo è quindi il concetto è che stiamo cercando di creare un ambiente che sia chiuso ma non chiuso quindi stiamo usando dei dei filtri ottici nel senso stiamo usando delle vetrate insonorizzate molto insonorizzate con un partner ovviamente nostro industriale con cui lavoriamo tanto per creare appunto uno spazio dedicato a questa funzione ma che non sia una cabina telefonica dove io mi metto dentro e faccio la mia riunione molto impersonale non vedo l'ora di uscire quindi stiamo un po cercando di coniugare queste questi aspetti no il fatto di essere piacevolmente seduto in un luogo e poter fare però una riunione senza infastidirmi io da fastidio agli altri beh questa domanda è divertente perché passato presente futuro beh allora io ho una formazione umanistica quindi per me il passato ricopre riveste un'importanza notevole il passato tra l'altro è ci ha dato degli esempi incredibili dei maestri nel mondo del design che ci hanno lasciato degli oggetti e delle creazioni pazzesche il passato è importantissimo perché il passato ci insegna è un po la nostra memoria storica però non dobbiamo dimenticare che il passato non c'è più il futuro ci sarà e noi in realtà viviamo presente quindi dal mio punto di vista io non credo sia corretto andare a copiare volgarmente il passato utilizzando degli stilemi che non sono più quelli di oggi o utilizzando delle forme che non sono più quelle di oggi che poi c'è sempre un passaggio storico per cui le forme ogni 20 anni si ritorna a delle forme che si usavano prima ma che poi si useranno dopo per cui secondo me è importante concentrarsi e focalizzarsi sulle esigenze attuali sul presente con uno sguardo sicuramente un po lungimirante al futuro utilizzando l'insegnamento del passato ma utilizzando assolutamente il presente come base di approccio progettuale e quindi io vivo oggi, vivo adesso, licet nunc del mondo latino e quindi oggi devo cercare di trovare delle soluzioni di dare delle risposte che siano il più possibile interessanti e progressiste comunque nel campo di quello che verrà utilizzato oggi ma anche domani perché l'utilizzo non può finire in pochi giorni, poche settimane o pochi anni però dobbiamo guardare all'oggi, io sono fermamente convinto che ogni tanto dovremmo fermarci a guardare quello che c'è adesso utilizzare i materiali di adesso, utilizzare le forme questo per me è importante perché se no perdiamo di vista rischiamo di legarci troppo al passato pensando di non essere in grado di costruire qualcosa di meglio o di pensare troppo al futuro e di essere troppo avanti su qualcosa che non conosciamo, che non sappiamo ancora quindi questo è il mio personale credito questa ultima domanda è carina, interessante perché in effetti riprendendo la mia risposta precedente sul passato, presente e futuro che messaggio poter dare oggi? beh allora sicuramente è un messaggio positivo, un messaggio totalmente positivo il design si sta evolvendo tantissimo mi piace pensare che il design, come dicevo prima, possa subire contaminazioni dal mondo moda che sono poi le contaminazioni che io cerco spesso che possa subire contaminazioni dal mondo dell'interior design perché, ripeto, c'è un legame strettissimo tra spazio in cui viviamo e gli oggetti che compongono il nostro vivere quindi questo è indissolubile per me e quindi quello che posso dire ai ragazzi che si avvicinano a questo tipo di professione è di cercare la bellezza nei dettagli perché ancora una volta il mondo della moda è fatto di dettagli è fatto di un occhiello, di un bottone, di un bavero una camicia o un colletto particolare e anche nell'arte classica, se ci pensiamo, i dettagli sono fondamentali quindi la differenza tra uno stile dorico, ionico, corinzio è fatto proprio di dettagli, di elementi una colonna più grossa, una colonna più liscia, più snella per cui il dettaglio, ecco la cura del dettaglio per me è molto importante perché è un po' una maniacalità sartoriale quello di cercare all'interno dello studio di un prodotto quei dettagli che fanno poi la differenza perché poi un oggetto come un'auto quindi che ha dei designer eccezionali piuttosto che un nuovo telefono molto spesso sono i dettagli che ne definiscono la bellezza se voi prendete oggi qualsiasi tipo di telefonino un iPhone, un Samsung in realtà sono degli oggetti che hanno una forma assolutamente identica l'uno all'altro però è il dettaglio di dove è posizionata la telecamera di dove è posizionato il tasto e quindi è quello che attira e che fa la differenza credo di aver terminato io a questo punto ringrazio ancora una volta il nostro invitato, il nostro ospite è il Tibuglio Design District perché ci ha dato questa possibilità piacevole di raccontarci di raccontare la nostra opinione su argomenti attuali molto sfidanti e spero che queste parole, queste riflessioni possano aiutare a fare delle considerazioni oppure ad avvicinare dei giovani a una professione assolutamente divertente e appagante grazie a tutti Grazie a tutti